L'architetto Romaldo Giurgola ha onorato la città di Galatina oggi ed ha appena concluso la sua visita alla Basilica di Santa Caterina. Ci dice l'emozione che ha avuto visitando questa chiesa? Ce la racconta? È un'emozione molto comprensiva, non è fatta di episodi, ma di una totalità che è rappresentata dai dipinti che invadono tutto, incluse le colonne e i pilastri che ci sono intorno. Poi ho trovato che la pianta di questa chiesa è una pianta molto originale perché è composta di tre navi separate da uno spazio di ambulatorio. Quindi è una pianta molto rara a vedersi e quindi mi ha attratto immediatamente come una soluzione intelligente nell'entrare nelle chiese e nel distribuire le cappelle da una parte e dall'altra. La nave centrale è la nave centrale per l'uso normale. Quindi lei è prevalza la razionalità dell'architetto? Penso sì, sì. E tutta la visita a Galatina, l'incontro che ha avuto con il 50% del suo sangue, posso usare un'espressione retorica? Anche direi un po' di più perché ci sono tre o quattro generazioni che sono registrate qui, quindi il sangue si è esteso per parecchi anni. Certamente mi ha fatto molto onore tutto quello che è accaduto questa mattina nel ricevere la cittadinanza della città. Ci promette di tornare con più calma magari? Ma certo ci tornerò col cuore molto spesso. Bene, anche noi penseremo a lei molto spesso. Grazie. Grazie. Grazie.